Immerso nello straordinario parco naturale delle gole del Vezzeno, il castello di Gropparello è un significativo esempio di castello guelfo perfettamente conservato, che si affaccia su un orrido di grande interesse geologico e paesaggistico. Situato sulle colline piacentine, il castello di Gropparello rimane forse uno dei complessi che più conservano tutto il fascino della fortificazione medievale. L'accesso alla fortezza è tuttora possibile solo attraverso i due ponti levatoi, uno carrabile ed uno pedonale. L'eleganza sobria delle sue sale medievali, l'ampiezza monumentale dei suoi camini e la luce che penetra velata dalle grandi finestre donano al maniero un'atmosfera magica. Grazie a tutti! Grazie a tutti!